Power People! Sempre attivi! Come al solito, io sono Smauri, questo è il Body Power & Elasticity. Siamo al percorso primi passi e all'off numero 13. Vai! Iniziamo il riscaldamento immediatamente. Voi seguitevi e cominciate a contrarre l'addome. Allungo, giù le spalle, vado avanti e allungo. Resto, torno, vai, scorro e torno e allungo. Vado avanti, mi allungo. Vai! Schiaccio, torno, plank, contrargo, vai, torno, giù la testa e vai, risucchio ombelico, stringo i glutei giù le spalle. Mi allungo, vai, vai. Vado in plank, resta, resta, gambe tese, contrargo l'addome. Vai, vai, vai. E da qui. Allungo, vai, sedia. Vengo su. Vai, sedia. Mi allungo e prendo le caviglie. Destra, destra e prendo la caviglia sinistra. Mi allungo, vai. Mi allungo, mi allungo. Torno al centro e da qui. Vai. Non troppo alte le gambe. Se questo va a incidere sulla schiena. Vai, vai. Vai, lungo. Un filo che mi porta su. Vai. Respiro. Vai, respiro. E torno. Ultimi due. Destra e sinistra. E vai. Adesso. Allungo. Vai. Allungo, lungo, lungo, lungo. Vai. Respira. Piccolo molleggio. Torni. Ti allunghi. E vai. Dall'altra parte mi allungo. Ah, vai. Gamba tesa sinistra. Piccolo molleggio. Vai. Respiro. 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 Vengo su. E da qui. Prendo. Prendo. Vai. Apro. Respiro. Allunga la schiena. Allunga la schiena. E torni contro l'addome. E ricominci. Allungo. Schiena. Davanti. Vai. Plank. Lungo il collo. Vai. Giù i talloni. Se ce la fai. Respira. Cerca di fare adesso, visto che una prima parte di riscaldamento l'abbiamo fatta. Allunga bene. Affonda meglio che puoi. Vai. Stringi i glutei lungo il collo. Giù le spalle. Giù i talloni. Gambe tese. Vai. Respira. Contrai. Vai. Allungati. E ultimo. Vai. Respiro. Vai. un plank. Tutto teso. Vai. Respira. E adesso prendi la caviglia destra e ti allunghi. Vai. Respira. Lunga. Lungo. E dall'altra parte sinistra. Vai. Vai. Respira. Allungati. Allungati. Vai. E torni. E da qui. Vai. Uno. Forza. Due. Giù i talloni. Mi allungo un filo che mi porta su verso il soffitto. Spalle aperte. Vai. Schiena lunga. Respira. Forza. Allungo. Vai. Allungo. Vai. Allungo. Vai. Ok. Adesso mi allungo. Scendo. Gamba tesa. Schiena lunga. Molleggio. 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 E scusate. Da qui. Vieni su. Ti allunghi. E passi dall'altra parte. Vai. Ti allunghi. Vai. Ti giri. Gamba tesa. Vai. Molleggio. 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 Vieni su. Forte la gamba. Controllo l'addome. E mi giro. E adesso prendo le caviglie. Gomiti nell'incavo delle ginocchia. Guardo davanti. Lungo il collo. Lunga la schiena. Respiro. Vai. Resta. Resta. e adesso chiudi. E torni. Torni. Quattro. E mi allungo. Muy bien ragazzi e ragazze. Ok. Veloci. Andiamo a tutta la parte bruta e gambe. Elastico. Se non avete questo doppio elastico. Vai. Allora. Da qui. Quadrupedia. E faccio tre pulso. Uno. Due. Tre. E appoggio. Uno. Due. Tre. E appoggio. Finiti i dieci. Faccio tre pulso. E leggermente torno. Ok. Tre pulso. E leggermente torno. Questo. Destra e sinistra. Vai. Iniziamo. Forza. Forza. quattro pedia. Uno. Due. Tre. Chiudo. Uno. Due. Tre. Chiudo. Siamo a quattro. Due. Tre. Chiudo. E tre. Chiudo. Siamo a sette. Due. Tre. Chiudo. Siamo a otto. Due. Tre. Chiudo. Vai. Su. Vai. Siamo a nove. Contra l'addome. Dieci. Su. Vai. E adesso. Vai subito. Vai. Due. Tre. Leggermente su. Due. Due. Tre. Leggermente su. Tre. Due. Tre. Leggermente su. Quattro. Vai. Giù. Vai. Giù le spalle. Contra con l'addome. Cinque. Due. Tre. Su. Sei. Due. Tre. Su. Stringi i glutei. Sette. Due. Tre. vai. Vai. Otto. Due. Tre. Vai. Nove. Due. Tre. Forza. Dieci. Due. Tre. Su. un giro. Un giro dalla parte sinistra. Vai. Uno. Due. Tre. E due. Due. Tre. Gambe tese. Quattro. Tre. Due. Tre. Vai. Su. Quattro. Due. Tre. Forza con questo elastico. Cinque. Due. Tre. Vai. Sei. Due. tre. Vai. Sette. Due. Tre. Su. Otto. Due. Tre. Vai. Nove. Due. Tre. Vai. Respira. Dieci. Due. Tre. Su. E da qui. pulso. Uno. Due. Tre. Uno. Due. Tre. Piccolo. Due. Due. Tre. Su. Tre. Due. Tre. Vai. Quattro. Due. Tre. Su. Cinque. Due. Tre. Forza ragazzi. Vai. Sei. Due. Tre. tre. Vai. Vai. Sette. Due. Tre. Vai. Otto. Due. Tre. Su. Nove. Due. Tre. Forza. Dieci. Due. Tre. E. Vai. quadrupedia. E ricomincio a destra. Uno. Due. Tre. Stai. Due. Tre. Stai. Due. Tre. Stai. Quattro. Due. Tre. Stai. Cinque. Due. Tre. Stai. Sei. Due. Tre. Stai. Sei. Due. Tre. Stai. tre. Forza. Forza contro l'addome. Otto. Due. Tre. Stai. Nove. Due. Tre. Torni. Dieci. Due. Tre. Su. E da qui. Vai. Uno. Due. Tre. Torni. Non tornare con le gambe tese. Due. Vai. E. torni. Tre. Due. Tre. Su. Vai. Quattro. Due. Tre. Lo so. Non si chiederebbe il bad body of five. Vai. Siamo a cinque. Sei. Forza. E. Sette. Forza. E. Contra con l'addome. vai. Vai. Otto. Su. Vai. Nove. Vai. Dieci. Respira. Dall'altra parte. Via. Uno. Due. Tre. E. Due. Due. Tre. E. quattro. Due. Tre. Contra l'addome. Cinque. Due. Tre. Vai. Sei. Due. Tre. E. Sette. Due. Tre. Vai. Otto. Due. Tre. Vai. Nove. Due. Tre. Due. Dieci. Due. Tre. Muoi bene. E adesso. Uno. Due. Tre. Vai. Ok. Respiro. Vedete che sembra una banalità. Vai. 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 Forza. Chiudi il riscaldamento. Vai. vai. Respiro. Vai. Respiro. Se ho bisogno. Velo. Vai. Respiro. E fa l'allaccio. Emostatico. Questo. Questo. Elastico. Vai. Mi raccomando. Ok. Forza. Forza. ricomincio. Uno. Due. Tre. Sto. Due. Due. Tre. Sto. Quattro. Due. Tre. Sto. Cinque. Due. Tre. Sto. Sei. Due. Tre. E. Posso mettere anche qui. Sette. Due. Tre. dipende. Dipende come siete comode. Io sono comoda così. Otto. Due. Tre. L'importante è che sono morbide le spalle. Nove. Due. Tre. Dieci. Due. Tre. E. Vai. Ricomincio. E. Uno. Due. Tre. Sto. Due. Due. Tre. E. Quattro. Due. Tre. Contragola addome. Cinque. Due. Tre. Forza. Gamba tesa. Sei. Due. Tre. Stringi i glutei. Sette. Due. Tre. Vai. Otto. Due. Tre. Collo lungo. Non lo lasciate così. Nove. Due. Tre. Vai. Contragola addome. dieci. Due. Due. Tre. Su. E adesso. Vai. E. Uno. Due. Tre. Torni. Due. Due. Tre. Torni. Contrai. Quattro. Due. Tre. Forza. Cinque. Due. Tre. Forza. Sei. Due. Tre. Forza. Sette. Due. Tre. Non vogliamo ragazzi. Otto. Due. Tre. Forza la power people. Nove. Due. Tre. Vai. Dieci. Due. Tre. Molto bene. Vai. Quadrupedia e. Uno. Due. Tre. Torno. Due. Due. Tre. Torno. Torno. Quattro. Due. Tre. Su. Cinque. Due. Tre. Forza. Sei. Due. Tre. Vai. Sette. Due. Tre. Vai. Otto. Due. Tre. Contragola addome. nove. 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 Su. E. Vai. Dieci. Forza. Su. E. Vai. E. Uno. Due. Tre. Stringo i glutei. Vai. Due. Tre. Contrai l'addome. Vai. Lama tre. Su. su. Giù le spalle. Quattro. Due. Tre. Su. Cinque. Due. Tre. Forza. Sei. Due. Tre. Non si molla. Sette. Due. Tre. Attenzione che i ginocchi non vada oltre la punta del piede. Otto. Vai. Respira. Non fa male. Portasi a manove. vai. Vai. Dieci. Due. Tre. Forza quadrupedia. Vai. E. Uno. Due. Tre. Stai. Due. Due. Tre. Schiena lunga. Contragola addome. Siamo a tre. Quattro. Forza. Cinque. vai. Vai. Sei. Vai. Forza. Sette. Vai. Otto. Su. Contragola addominale. Nove. Springo i glutei. Vai. Dieci. Non si molla un kaiser. E. Ricomincio. forza. 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 Vai. Uno. Vai. E. Sono su. Due. Vai. E. Sono su. Tre. Forza. Vai. Quattro. Vai. Cinque. Vai. Sei. Forza. Forza. Contragola addome. Sette. Non mollo. Otto. Forza. Nove. Non mollo. Dieci. Ok. Quadrupedia. Su. 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 Uno. Due. tre. Gamba tesa. Due. Due. Tre. Forza. Quattro. Due. Tre. E. Cinque. Due. Tre. Forza. Sei. Due. Tre. Sette. Due. Tre. Forza. Non molliamo. Otto. Due. Tre. Nove. Due. Tre. tre. Vai. Vai. Ok. Ok. Buongiorno ragazzi. Vai. Respiro. Non si vuole tagliere. Vai. Ok. Vai. Sciogliamo un attimo. Vai. Sciogli. 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 E. scendo. Vai. Allungo. Respiro. Allunga bene. Allunga bene. Allunga bene. Vai. Respiro. E. Spiro. Vai. Inaspiro. Ginocchio al petto. Vai. Spiro. E. e. Vai. Ginocchio al petto. E poi allungati. Dall'altra parte. Vai. Ginocchio al petto. E sinistro. Un pochino verso l'esterno. E ti allunghi. Vai. E ti allunghi. Poi. Inaspiro. Giù le spalle. Allungo il collo. Vai. 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 Ultimo. Inspiro. Ginocchio al petto. E. Vai. Vai. Respiro. Allungo. 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 Vai. Apro le ginocchia. Respiro. Resta. Se ti fa male appoggiare sulle mani e piano piano le fai scendere. Quello che ti senti piano piano senza forzare. Restiamo. Abbandona. Rilassa. Rilassa. Non stare in tensione. Non stare in tensione. Ma rilassa. Ok. Piano piano. Prova anche a. Vai. Vai. Apri. Apri. Respira. E. Torna. Vai. Da qui. Allunghi. Ginocchia tese. Inaspiro. E. Rilassa. E. Torni. Contra l'addome. Inspira. Vai. Giù la testa. E. Torni. Vai. Ancora. Inspiro. E. Giù la testa. Ancora. Vai. Inspiro. Contrago. E. Giù. Butto fuori. Rilassa. Rilassa. Rilassa le spalle. Rilassa le spalle. Vai in collo. Resta. Giù le spalle. Allungati. E. Piano piano. Torni. Ok. Incroci. Passi davanti. Vai in quadrupedia. Inspira. 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 Mucca. Vai. Vai. Giù le spalle. Inspira. Mucca. Vai. Adesso. Adesso. In su. Allunghi. Attenta al ginocchio. Bacino. Resta. Resta. Resta anche così. Non ti appoggiare. Vai. Respira. Resta. Lascia il peso. Senti che si allunga lo psoas. Vai. E adesso. Allungo. 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 Piano. Se ce la faccio. Lo prendo con le mani. Respiro. Vai. Mi allungo. Cado. Ok. Lascio. Respiro. Mi allungo. E. Cambio. Vai. Allungo. Attenzione al ginocchio. Morbido. Respiro. Lascio. Bacino. Vai. Lascio. Giù le spalle. Inspiro. 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 e adesso. Prendo. Vai. Allungo. Vai. Allungo. Contraggo. Piano. Vai. E da qui. Ando su. Appoggio. E lentamente. 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 Allungo. lungo. E da qui. Giù. Resta. Inspira. Torni. Cerca di toccare. E ritorni su. Ancora. Inespiro. Vai. Vado giù. Vai. 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 Inespiro. Se ce la fai con le mani. Altrimenti. Le metti qui. Sulle ginocchia. Scendi. E torni. Vai. Ultima volta. Inespiro. Giù. Allungo. Guardo davanti. Schiena lunga. Vai. Abbraccio. E lentamente. Lentamente. contraendo. Srotolandomi. Torno su. Vai. Forza. Ok. Addominali. Addominali. Asciugavano se non mi fa tutti i rumori del mondo. Ok. Allora. Da qui. Finocchio. Destro. Giù. Puls. 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 Sto. Destra. E sinistra. Ok. Poi. Rimango sdraiata. Metto le gambe su. Scendi la destra. Puls. 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 Vengo su. E. Destra. Destra. Vengo su. Bacino. Ci siamo? Semplice. Ma efficace. Sei minuti di lavoro. Vai. Vai. Uno. Due. Tre. E torno. Uno. Due. Tre. E torno. Tre. Due. Tre. Contrago bene. L'ombelico. Siamo a quattro. Cinque. Due. Tre. Vai. Sei. Due. Tre. Vai. Sette. Due. Tre. E. Otto. Due. Tre. Forza. Nove. Due. Tre. Vai. Dieci. Due. Tre. Forza. E cambio. Uno. Due. Tre. Su. Due. Due. Tre. Forza. Quattro. Due. Tre. E cinque. Spingi l'ombelico verso il pavimento. Sei. Due. Tre. Vai. Senti come si sente la contrazione dell'addominale. Siamo a sette. Otto. Vai. E. Nove. Forza. Vai. Dieci. Due. Tre. tre. E. Forza. Da qui. Schiaccia. Uno. Due. Tre. Su. Due. Due. Tre. Su. Due. Due. Tre. Su. Vai. Cinque. Due. Tre. E. Su. Sei. Due. Tre. Vai. Vai. Sette. Due. Tre. Vai. Sette. Due. Tre. Vamos. Otto. Due. Spingi bene. Su. Nove. Forza. Forza. E. Dieci. Due. Tre. E cambio. gamba. Uno. Due. Due. Tre. E. Due. Due. Tre. Sul bacino. Quattro. Due. Tre. Sul bacino. Cinque. Due. Tre. e poi sei. Due. Tre. Spingi bene il bacino. Vai. Sette. Due. Tre. Vai. Otto. Due. Tre. Vai. Nove. Due. Tre. gamba. Gamba tesa. E. Gamba tesa. Vai. Dieci. Due. Senti che stivano bene gli addominali. E. Ricomincio. E. Uno. Due. Tre. E. Vai. Su. Uno. Due. Tre. Siamo a due. Vai. Tre. Due. Tre. Forza. Forza. Quattro. Due. Tre. E. Cinque. Due. Tre. Forza. Sei. Due. Tre. Vai. Sette. Due. Tre. Vai. Otto. Due. Tre. Forza. 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 Tre. Forza. Forza. Cinque. Due. Tre. Vai. Sei. Due. Tre. Forza. Sette. Due. Tre. Otto. Due. Tre. Vamonos. Nove. Due. Tre. Spingi l'ombelico. Dieci. Due. Tre. Spingilo verso il pavimento. Subito. Subito. Vai. Schiaccia il mento. Uno. Due. Tre. Su. Due. Due. Tre. Giù le spalle. Tutto il focus qui. Tre. Due. Tre. Vai. Vai. Quattro. Due. Tre. Su. Cinque. Due. Tre. Forza. Sei. Due. Tre. Vai. Sette. Due. Tre. Forza. Otto. Due. Tre. Sul bacino. Nove. Due. Due. Tre. Sul bacino. Dieci. Due. Tre. Vai. Cambiamo gamba. Uno. Due. Tre. Su. Due. Due. Tre. Su. Tre. Due. Tre. Su. Bene. Molto bene. Respiro. Sentite che il lavoro è veramente importante, quello che facciamo a livello addominale. Semplici, semplici, ma decisamente molto, molto efficaci. Spingiamo l'ombelico verso il pavimento. annulliamo la curva fisiologica della schiena. Allunghiamo la cervicale. Focalizziamo tutto il nostro lavoro sulla parete addominale. Vai. Tre. Ricomincio. Eravamo a quattro. Quattro. Due. Tre. E vengo su. Cinque. Due. Tre. E vengo su. Sei. Due. Tre. Spingo bene l'ombelico verso il pavimento. Sette. Due. Tre. Vai. Giù le spalle. otto. Due. Due. Tre. Forza. Dieci. Due. Tre. E su. E ricomincio. Uno. Due. Tre. Sulle spalle, ragazzi. due. 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 Tre. Vai. Vai. Tre. Siamo a tre. Forza. Quattro. Due. Tre. Risucchia l'ombelico. Cinque. Due. Tre. Vai. Sei. Due. Tre. Forza, ragazzi. sette. Sette. Due. Tre. Vai. Otto. Due. Tre. Su. Lento. Nove. Due. Tre. Vai. Dieci. Su. 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 E cambio. Vai. Uno. Su. 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 Controllo. Vai. Contrago l'addome. Forza. Forza. E forza. Vai. Vai. Siamo a tre. Quattro. Tre. Due. Forza. Cinque. Due. Tre. sei. Su. 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 Vai. Sette. Vai. Vai. Tira su. Otto. Tira su le spalle. Forza. Vai. Nove. Tira su le spalle. Forza. Dieci. Tira su le spalle. E ok. Da qui. Uno. Due. tre. Lunga la cervicale. Tre. Lunga la cervicale. Due. Due. Tre. Spingi bene l'ombelico. Tre. Vai. Su. Annulla la curva della schiena. Quattro. Vai. Vai. E cinque. Vai. Vai. E sei. Forza. Forza. Vai. Sette. so. 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 E otto. Vai. Vai. Forza. 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 Nove. Giù le spalle. Dai che ce la facciamo. Dieci. So. So. E torno. Sinistra. Uno. Due. Tre. E due. Due. tre. Tre. Vai. Quattro. Due. Tre. Spingi l'ombelico verso il pavimento così. Annulla la curva. Quattro. Forza. 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 spingi. Vai. Sei. Vai. Vai. E sette. Su. 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 Spingi bene. Vai. Otto. Forza. Vai. Nove. Vai. Che ce la facciamo. Vai ragazzi. Su. Dieci. Spingi bene. E ricomincio. E uno. Vai. Su. controlla. Due. Controlla. Due. Tira su. Spingi l'ombelico in dentro. Tre. So. So. Vai. Quattro. Vai. Vai. E cinque. So. So. Vai. Sei. Dai. Vai. E. Forza che ce la fai. Sette. Forza. Otto. Vai. Nove. Sulle spalle. Dieci. E cambio. E uno. E torni. Due. Due. Tre. Controlla l'addome. nove. Due. Tre. Forza. Forza. Dieci. due. Due. Tre. E ricomincio. Su. 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 Uno. Due. Tre. E su. Due. Due. Tre. Vai. Quattro. Due. Tre. Su. Cinque. Due. Tre. e sei. Due. Tre. E sette. Due. Tre. Su. Otto. Due. Tre. Su. Otto. Due. Tre. Inaspiro. Tre. E mi allungo. Vai. 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 Vado in plank. Se non ce la fai. Appoggi le ginocchia. E fai questo. Vai. 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 Vai Cambi a testa in giù, inspiro e torno, inspiro giù i talloni se ce la fai e torno, inspiro contrai bene l'addome, risucchia l'omberico, spingi il petto verso il pavimento. Vai, adesso ti allunghi, vai, molleggia, molleggia, molleggia e la porti davanti, ti allunghi e ti giri, respira giù le spalle, vai, vado indietro, appoggio, allungo, vai, allunga, allunga, resta, resta. E adesso prova a prendere il piede, la punta del piede, ti allunghi, respira, respira e piano piano torni e da qui ti allunghi, vai, vieni su, apro, mano in preghiera e provi. Se non ce la fai appoggi il ginocchio, se ce la fai tieni la posizione, vai, giù le spalle, resti, 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 resti. Ok, appoggiamo, allunghiamo, torniamo nella posizione, vai, allungo e torno e cane, testa in giù, vai. Vai, inspiro davanti ed espiro indietro, io mi giro così, ce l'ho, mi ci avete sempre frontale, vai. Innespiro, giù la testa, inspiro, giù i talloni se ce la fai. Adesso, gamba e vai, piccolo molleggio, vai, allunga, contrai l'addome, spingi il petto, allungati, 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 allungati. E gamba sinistra avanti, mi giro, gamba tesa destra, apro il petto, respiro, contraggo, vai, e da qui appoggio, respiro, vai, respiro. Provo a prendere la punta e cerco di tirare, allungo, 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 e da qui vengo su, se ce la faccio, mani in preghiera e tengo la posizione, metto il gomito dietro il ginocchio. Se non ce la faccio, appoggio il ginocchio destro, ok? Non è necessario, cioè voi provate, provate, se riuscite restate, ok? Vai, resto, da qui, torno, appoggio, allungo e torno, vai, giù la testa. Da qui, torno, vengo in quadrupedia e allungo, vengo su, apro, vai, apro e torno, vai, stringo i glutei, contraggo l'addome, apro e torno, ancora, vai, allungo, apro e torno, giù le spalle, vai. Allungo, apro e torno, vado giù in compensazione, mi allungo, resto, contraggo, 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 giù le spalle, sciolgo, 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 dall'altra parte, vai, respira, e inspiro, giù, contraggo, giù, contraggo l'addome e inspiro, vai, destra, vengo su sinistra e allungo e giù, 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 ok? Ok, bene, ok, benissimo, braccia d'orso, prendo i pesi, allora io sulla sinistra sono sempre ancora un po' infiammata, per cui mi alternerò con dei pesi un po' più bassi. Comunque, molto semplicemente, chi ce la fa, alza la gamba, chi non ce la fa, appoggia la gamba. L'esercizio è questo, questo, se ce la faccio, alzo, ok? Destra e sinistra, poi, vengo su e da qui stringo bene i gruti, contraggo bene l'addome, destra, dieci, sinistra, dieci. Ok? Vai, vai, forza, forza, e uno, vai, due, vai, tre, forza, quattro, cinque, se ce la fai, se non appoggi, eh? Sei, sette, quello che mi interessa sono le braccia, otto, vai, nove, dieci, cambio gamba, peso sinistra, io non posso usarlo il peso, uno, lo simulo, vai, due, gomito che passa lungo il fianco, tre, respira, controlla l'addome, quattro, cinque, sei. Sette, otto, lungo il collo, nove, dieci, e adesso, destra, vai, e uno, e torno, stringo i gruti, due, e torno, vai contraggo l'addome, tre, e torno, lungo il collo, quattro, Vai, cinque, forza, se non puoi stare in ginocchio, ti metti in piedi, vai, sette, non c'è problema, vai, otto, giù le spalle, nove, vai, dieci, cambio peso, io non posso farlo, uno, e torno, vai, due, Giù la spalla, tre, forza, forza, quattro, stringi questi glutei forti, cinque, allunga bene, contrai l'addome, sei, forza, verso il soffitto, il collo, sette, un filo, vai, otto, vai, nove, vai, dieci, e ricomincio. Forza, 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 uno, torno, due, torno, tre, torno, quattro, gomito lungo il fianco, cinque, lungo il collo, gamba tesa, sei, anche se appoggia la terra la gamba, sette, vai, otto, nove, Dieci, cambio, forza, 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 vai, uno, contraggo due, lunga la schiena, tre, forza, quattro, vai, cinque, sei, vai, vai, sette, vai, otto, nove, E dieci, molto bene, stringo i glutei, uno, contraggo l'addome, due, forza, tre, vai giù, giù con le spalle, quattro, stringo i glutei, cinque, vai, sei, E sette, forza, otto, vai, nove, contraggo bene, dieci, e cambio, uno, forza, forza, due, forza, tre, vai, quattro, stringo i glutei, Cinque, forza, 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 sei, vai, sette, stringi quei glutei, otto, vai, nove, contrai l'addome, dieci, e ricomincio, forza, power people uno, contraggo l'addome due, lungo il collo tre, Forte la gamba destra, quattro, gomito lungo il fianco, cinque, vai, non vogliamo, sei, risucchia l'ombelico, sette, vai, otto, forza, nove, e vamos, dieci, e cambio, forza, uno, vai, due, Tre, vai, quattro, controlla l'addome, cinque, gamba tesa, sei, vai, sette, forza, otto, vai, nove, e dieci, Muy bien, e uno, e torni, stringi i glutei, due, contrai bene l'addome, tre, vai, quattro, giù le spalle, forza, cinque, vai ragazzi, sei, forza, power people, sette, Gomito teso, otto, forza, forte l'addome, nove, vai, dieci, cambio peso, vai, uno, e due, vai, 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 tre, e quattro, forza, benissimo, vai, stiamo lavorando molto bene, eh? Molto, molto bene, io ho questa piccola infiammazione, qui, la parte sulla cuffia, diciamo, della spalla, che mi fa, non mi fa male, ma mi dà fastidio, lo sento quando soprattutto faccio certi movimenti con i pesi, E quindi, qui sto cercando, diciamo, alcuni movimenti, proprio di non utilizzare il peso, mentre sulla destra, diciamo che c'era un principio per cui ci sto accorta, chiaramente, mai esagerare se si sente che si ha un problema, vai, cinque, sei, Forza, stringi i glutei, sette, vai, otto, vai, nove, anche un esercizio così semplicissimo, dieci, se io mantengo tutto contratto, è un esercizio fantastico, uno, vai, due, tre, vai, quattro, cinque, sei, Lungo il collo, vai, sette, forte gli addominali, otto, gomito lungo il fianco, nove, forza, forza, dieci, molto bene, cambio, vai, uno, e torni, vai, due, assicurati l'equilibrio, tutto contratto, tre, forza, non mollare, quattro, vai, cinque, Vai, sei, stringi bene i glutei, sette, risucchia l'ombelico, otto, vai, nove, forza, dieci, vai, e stringi i glutei, uno, giù le spalle e contrai l'addome, due, vai, tre, forza, Quattro, vai, cinque, su, 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 sei, vai, sette, stringo i glutei, otto, vai, nove, e dieci, e cambio sinistra, uno, e torno, stringo questi glutei, due, Se ti danno fastidio alle ginocchia, fanno in piedi, tre, anche seduta su una sedia, volendo, quattro, vai, controlla l'addome, cinque, risucchia l'ombelico, sei, vai, sette, forza, otto, vai, nove, su, dieci, Muy bene, ricomincio, e uno, e due, forza, forza, tre, vai, quattro, vai, cinque, sei, sette, otto, nove, vai, Vai, dieci, gomito lungo il fianco, cambio, e uno, vai, due, controlla l'addome, risucchia l'ombelico, tre, forza, quattro, cinque, lungo il collo, sei, forza, sette, otto, vai, nove, E dieci, e ricomincio, stringo i glutei, uno, vai, due, su, tre, forza, stringi i glutei, quattro, vai, forte l'addome, cinque, sei, forza, sette, giù le spalle, Vai, otto, vai, accompagnalo il peso, nove, vai, dieci, e cambio, vai, uno, controlla l'addome, due, forza, forza, tre, vai, quattro, vai, cinque, vai, giù le spalle, sei, Vai, omelico, sette, ritrailo, otto, spingilo in dentro, vai, nove, vai, dieci, e vai, ricomincio, ultimo minuto, vai, uno, e due, forza, tre, gomito che passa laterale, quattro, vai, cinque, vai, sei, Su, sette, otto, nove, dieci, vai, cambio, forza, forza, e uno, allunga bene, due, e tre, stringi i glutei, quattro, tieni l'equilibrio, Forte l'addome, sei, vai, sette, apri bene le dita della mano, otto, vai, nove, non c'è andare con il collo, dieci, vai, respiro, e uno, stringi i glutei, due, vai, Vai, inspiro, espiro, tre, vai, quattro, vai, cinque, sei, forza, sette, lungo il collo, otto, nove, grandiosi, grandiosi, vai, Indovinate i vostri amatissimi burpees, tre, due, uno, via, uno, e due, ognuno col suo ritmo, tre, forza, forza, quattro, vai, cinque, su, sei, su, sette, su, otto, vai, Vai, nove, vai, dieci, forza, uno, forza, dodici, forza, tredici, e quattordici, Molt bene, respiro, vai, plank, vai, respiro, lungo il collo, vai, concentriamoci sulla respirazione, non state con il sedere così, Una linea unica, gambe, glutei, schiena, spalle, collo, testa, vai, respira, vai, controllo l'addome, risucchio l'ombelico, respira, 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 forza, non molliamo, vai, 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 contrargo tutto, respiro, vai, che ce la facciamo, respiro, 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 vai, Forza, forza, controllo l'addome, risucchio l'ombelico, stringo coi glutei, lungo il collo, spalle perpendicolari, ai gomiti, vai, Grandi ragazzi, vai bene, ok, bene, allora, mettiamoci in ballopedia, appoggio, vai, cerco di appoggiare il mento e il petto, guardo davanti, Vai, respira, vai, respira, e torni, vai ancora, respira, appoggia il più possibile, mento e il petto al pavimento, Inspiro, espiri con il naso e torni, espirando con la bocca, vai, inspiro, e resta, resta, da qui, scendi, Vai, apriamo un pochettino, respiro, apro, porto la mano indietro, appoggio la pianta del piede, ginocchio aperto, cerco di aprirmi il più possibile. Vai, controllo l'addome, vai, respiro, 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 bene, ok, vai, all'altra parte, sinistra, appoggio la pianta del piede, apro il ginocchio, porto indietro il braccio destro, il più possibile, respiro, contraggo l'addome, vai, respira, respira, e adesso piano piano, torni, mani al petto, vengo su, giù le spalle, appoggio il bacino, vado indietro, appoggio il gluteo sui talloni, ok. Scioglio le spalle, scioglio le spalle, vai, avanti, scioglio le spalle, vai, 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 e da qui, metto, sdraiata, e da qui prendo le caviglie, cerco di alzare il gluteo, risucchio l'ombelico, vai, tira su, e vieni giù, appoggia bene, vai ancora, tira su, vai, stringi i glutei, vai, vai, e appoggia, vai ancora, tira, tira su, vai, 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 e giù, e tira su, stringi i glutei, vai, 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 e appoggia. Adesso ginocchio al petto, su, piccolo massaggio, ruoteando le ginocchia prima da una parte, e poi dall'altra, e adesso vado indietro, vai, e torni lentamente, vai, e ancora, vai indietro, vai, e piano piano, torni lentamente, vai, 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 piano, scendi per l'inocchio, allora ce la ricave, piano piano torni, 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 e mani sotto le ginocchia, ginocchia, vieni su, vai, ti allunghi, inespira, e torni, vai, inespiri, giù, 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 e torni, ancora, inespiri, e torni, resta, resta, e torna, ginocchio, dall'altra parte, scusate, gamba, oltre il piede, oltre il ginocchio, giù, giù, giù le spalle, vai, mi allungo, spingo il ginocchio, ruoto il busto, e dall'altra parte, vai, mi allungo, vai, spingo il ginocchio, verso l'esterno, con il gomito, giù le spalle, ok, da qui, mi giro, mi siedo, incrocio le gambe, il mento, fa un semicerchio, vai, buttando giù l'aria, e, ispiro con il naso, ispiro con il naso, inespiro, vai, peso delle braccia sulla nuca, lunga la schiena, piegato il collo, e, mi allungo, e, vado davanti, resta, giù le spalle, cerco di appoggiare la fronte, vai, grazie, come sempre, grazie, finite, io vi mando un mega saluto, sempre Smauri, body power e elasticity, ci vediamo alla prossima, ciao ciao!